Noi siamo filmmakers e quindi abbiamo il core question del nostro lavoro è il tempo e per quanto dal nostro punto di vista lo speaking tongues ha a che fare con il tempo e con il mito. Questi sono un po' i temi che abbiamo presentato ai partecipanti. Speaking tongues fa parte di una questione per noi importante, anche cruciale dal punto di vista poetico perché è il lavorare fuori dalla lingua, anche dall'oggetto stesso. Ho un'immagine che è una specie di mostro che è ingordo, che mangia tutto quello che trova e questo mangiare lascia vuoti. Noi stiamo lavorando su quei vuoti, su quei vuoti del linguaggio, su quei vuoti del discorso. Questa è una delle questioni che stiamo affrontando con i giovani artisti della DAS. Abbiamo introdotto la nostra settimana a loro spiegando che non avevamo nulla da insegnargli ma avevamo eventualmente da proporgli delle ossessioni che ci appartengono e sono quelle del tempo e del linguaggio.